Il Nero di Troia, uno dei vitigni più rappresentativi della Puglia, è stato il protagonista del wine testing organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia, che ha chiamato raccolta nel Chiostro di San Francesco di Andria, autorevoli giornalisti nazionali di prestigiose testate del settore food and wine, per una degustazione di quella che rappresenta la terza varietà autoctona regionale per ettari vitati e per importanza commerciale. Presenti tutti i vini aioli del nord della Puglia, produttori di Nero di Troia, consorziati con il Movimento Turismo del Vino, che hanno proposto il meglio delle loro produzioni per raccontare i mille volti di una varietà dalle molteplici potenzialità. Nero di Troia è il nostro oro nero, l'oro nero del centro nord della Puglia, è la varietà a bacca nera appunto da vini rossi, che viene coltivata dalla Daunia fino appunto alla zona Castel del Monte. Ed è una varietà che ha acquisito sempre maggiore rilevanza, un tempo era sempre unita al Monte Pulciano, ad altri vitigni, ma sono ormai una quindicina d'anni che noi produttori ci siamo concentrati sulla vinificazione e sulla valorizzazione della varietà in purezza. È una varietà molto elegante, anche impegnativa perché ha dei tannini importanti che però le permettono di invecchiare con grande grazia per tanti anni. E un po' rappresenta lo stile del nord della Puglia. Quindi in Puglia abbiamo tre vitigni, due che rappresentano lo stile del sud, quindi il primitivo, il negro amaro, e il nero di Troia, quello appunto che contraddistingue e identifica tutti i vini rossi del centro nord. Qui siamo nel territorio da Castel del Monte, che è un territorio direi eletto per la viticoltura e la produzione di vini di qualità. Diciamo un territorio con un'altitudine abbastanza elevata, che si va dai 200 fino ai 400 metri, è un territorio collinare con terreni calcarei che dà tanta eleganza a questo vitigno. Ai giornalisti il compito di descrivere, raccontare e recensire i vini e le aziende produttrici per contribuire a promuovere la ricchezza della Puglia vitivinicola. Una varietà sempre più apprezzata, è uno dei vitigni maggiormente conosciuti pugliesi insieme al Primitivo e al Negro Amaro. Quindi diciamo questi tre vitigni sono gli ambasciatori dell'enologia pugliese. Ogni anno il movimento organizza tour per far conoscere i vini di tutta la nostra bellissima regione.